Entra nel vivo la campagna elettorale a Barletta e il cagnelato sindaco del centro-sinistra Pasquale Cascella affianca le liste a lui collegate, molte quelle civiche che entrano a far parte di diritto di una democrazia partecipata, di una politica che apre le porte al mondo civile, a uomini e donne che pur novizi nell'ambito politico-amministrativo hanno le idee chiare su come cambiare la città. Un'esperienza maturata sul campo, maturata toccando con mano ogni giorno problematiche, emergenze ed esigenze di Barletta. Il caso della lista Cascella sindaco insieme uomini, donne e tanti giovani uniti dal Comune intento di veder rinascere il proprio territorio, di veder rifiorire un'economia ormai spenta. Cominciamo dal fatto che bisogna fermarsi un attimo a vedere tutto ciò che non va, a tutti i guasti che sono stati prodotti nel tempo e sono stati prodotti da un coacervo nella vita amministrativa, nella vita democratica, perché noi non dobbiamo credere che c'è soltanto un'amministrazione, ma insieme ad un'amministrazione ci sono forze politiche di maggioranza e di opposizione, ognuna delle quali deve dare conto di quello che è accaduto a Barletta e deve dire ai cittadini come ha effettivamente intenzione di cambiare la città. Un momento delicato, questo in cui non c'è spazio per polemiche di sorta, ha sottolineato il candidato sindaco Cascella in riferimento al guanto di sfida che il competitor del PSI, Cosimo Canneto, ha lanciato all'avversario del centrosinistra, quello di un tempestivo confronto pubblico per discutere face to face dei problemi della città. Ma no, sinceramente non l'ho capito, io l'ho detto sin dall'inizio, sono pronto al confronto con tutti i candidati sindaci della città, credo che dovremmo confrontare progetti, programmi, idee, volontà di cambiamento. Io sono a disposizione, c'è un invito della CGL, ci sono altre iniziative di tanti soggetti della vita cittadina, io parteciperò a tutti, e mi confronderò con tutti quelli che sono lì presenti.